Benvenuti nel mondo degli orologi Reinhard Brant. Reinhard è un marchio di orologi di lusso fondato da un maestro orologiaio che ha scoperto il suo amore e il suo talento per l'arte dell'orologeria fin da giovane. Dopo la sua formazione presso l'Istituto di Orologeria di Forzaim, e il debutto professionale in piccole e prestigiose aziende, ha deciso di intraprendere una carriera indipendente e ha lanciato il suo primo orologio, chiamato Havana, nel 1992. Da allora, Reinhard ha continuato a creare orologi di alta qualità, caratterizzati da un'artigianalità eccellente e da un design elegante e sofisticato. Ogni orologio è realizzato a mano, utilizzando solo i migliori materiali e movimenti svizzeri, garantendo precisione e affidabilità. La collezione di orologi Reinhard comprende modelli per uomo e donna, che spaziano dai classici cronografi ai moderni orologi da immersione e da pilota. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso con un design elegante e sofisticato, ma anche con una forte attenzione per i dettagli e la qualità, Reinhard è la scelta perfetta per te.